E siamo nel secondo capitolo, facciamo qualche passo Qui dovremmo Non mi ricordo con quale tasto Così attiviamo il nostro compagno Ok Con il tasto direzionale Verso sinistra Noi possiamo andare a coccolare Il nostro amichetto Facendolo una volta appunto andiamo a sbloccare Il primo trofeo E dovremmo farlo poi 20 volte Quindi lo potete fare ovviamente Andando avanti nella storia Io lo farò ora Per cui come prima Come nello scorso video Ok tenerezza mamma mia Questo piccolo culo È meraviglioso Io lo andrò a sbloccare ora Anche questo vi verrà contato Vi verrà segnato numericamente Quindi quante volte avete coccato Colato il vostro amico Fino a raggiungere appunto Un massimo di 20 Troppo tenero Troppo troppo tenero Beh magari non lo sblocco ora Perché se no effettivamente Perdiamo un pochino di tempo Però Questo piano piano Lo andremo a fare Quindi ogni volta che Fermeremo da qualche parte Va bene Basta Mi ha registrato Quest'altra coccola Che tenerezza Bene Possiamo andare avanti adesso E qui Come avete potuto vedere State introdotto Un nuovo elemento Non è Non è una meccanica È proprio un elemento In più sono queste piante Rampicanti Che vengono allungate appunto Dal nostro amico Dal nostro piccolo culo E le possiamo sfruttare In questo modo qui Noi ci saliamo sopra Ci agganciamo Dopodiché andiamo a generare Un eco E rimaniamo attaccati Perché ci ha attaccato Ah beh sì Attacca in automatico La corda E andiamo su E andiamo a velocizzare Un po' Il tutto Ed evitiamo di arrampicarci Continuamente Qui Facciamo un salto Arriviamo in questo punto qui Andiamo a metterci un chiodino E Saltiamo qui sulla pianta Eco E andiamo qui su Prima di continuare Andiamo da questa parte Qui andiamo a sbloccare Gli affreschi Qui li sblocchiamo Con l'aiuto del nostro amico Quindi utilizzando sempre Un eco In questo modo qui Abbiamo sbloccato il trofeo Eco dal passato E mi raccomando L'affresco deve essere così Azzurro Se voi Attivate l'eco Da lontano E non lo andate a dividenziare Tutto Non vi verrà contato Quindi magari Controllate sempre Qui Vedete Galleria E qui saranno segnati Tutti gli affreschi Se non c'è l'immagine Ovviamente Non avrete preso Quell'affresco E dopo dovrete Ripetervi Tutto un pezzo Di un capitolo Per andare a recuperarlo Cosa che abbiamo dovuto fare Nella run di Frixi Perché Non me ne sono accorta E non l'ho evidenziato Per cui Esperienza insegna Fate così Mi raccomando Ora Possiamo continuare Da questa parte Qui possiamo andare a sfruttare Magari I salti Un doppio salto E arriviamo su Eccoci qui E magari qui possiamo dare una coccola Al nostro amico Ogni tanto Gli ne diamo una Poi andiamo di qua Con la scusa Diamo una carezzina Al nostro piccolo amico Bellino E qui Andiamo a mettere Un'altra pietruzza Facciamo così Facciamo così Facciamo Ecco Così da far apparire Questi Funghi Per poterci Arrampicare E anche qui Mamma mia Stiamo rischiando Tantissimo A non mettere I nostri chiodini Fai un attimo Giù Ok Qua Andiamo su di qua Perfetto Un saltino Con la scusa Eccoci qui Prima di andare avanti Andiamo di qua Questa parte E qui Andiamo a prendere Un'altra conchiglia Eccola qui Un'altra conchiglia Al piccolo pasticcino Un bignari pieno Morbidissimo Dove essere Di una morbidezza Andiamo di qua Andiamo ad attivare L'eco E andiamo a fare Un salto Qui Attiviamo di nuovo Non ci arrampichiamo Direttamente Sopra Perché Proseguiamo Prima da questo lato Eccoci qui Scendiamo di qua Passo qui C'ho da fare Qualche movimento Non proprio Semplice Ma ci proviamo Attacchiamo Un chiodo qui Sì però Devi attaccare i chiodi Quando lo dico io Forza un po' Oh Dai Dai Ge adaptation Non Assolutamente Voglia E che Cos'è E ora Ne dobbiamo Attaccare uno Un pochino Più Dovremmo andare bene lì Proviamo Ora Qui ci dobbiamo dondolare E dobbiamo arrivare Laggiù Vediamo se ce la facciamo Attenzione Va bene abbiamo svalicato Non è un problema va bene anche svalicare Dopodiché mettiamo la nostra pietruzza L'obiettivo è arrivare qui Quindi o vi agganciate da un lato O dall'altro svalicate come faccio io E arrivate a mettere la pietruzza Ora Con il grilletto superiore destro Torniamo su Molto molto facilmente Eccoci qui E zompa Mamma mia Oh Ogni tanto si incaglia Perfetto E adesso Dobbiamo continuare di qua Ok Quindi saltiamo e attacchiamo un chiodino Qui dondoliamo un po' E andiamo ad utilizzare Ok Il nostro amico Colleco Serviranno appunto Questi agganci Per andare su Un bel doppio salto Arriviamo su Facciamo un altro salto così Ruttiamo Stessa cosa di qua Stessa cosa di qua Siposiamo un attimo Più salti facciamo E meglio è così Raggiungiamo i duecento Quanto prima Eccoci qui E arriviamo su Sganciamo E qui Come potete vedere C'è una tana I piccoli Chobo Se non sbaglio si chiamano Poi li spaventate Li fate rientrare Qui intanto c'è una lettera Noi ce l'andiamo a prendere Dopodiché cosa fate Vi allontanate Aspettiamo Che esca di nuovo Il nostro piccolo amico E poi lo facciamo Rientrare nella tana Qui intanto ce n'è un altro In questo modo Possiamo andare a sbloccare Il trofeo Molto molto velocemente Questo è il punto Di cui vi parlavo Nel video scorso Vedete Li fate rientrare E aspettate nuovamente Così possiamo andare a sbloccare Facilmente questo trofeo Anche se Lo sbloccherete Andando comunque avanti Però per non rischiare Di non sbloccarlo Li facciamo avanzare un pochino Dopodiché Li andiamo a spaventare di nuovo E loro rientrano Lo facciamo qualche volta Sparelli Siamo noi che mettiamo Il terrore proprio L'altro non esce più Che ha reso Eccolo qui Intanto magari Accarezziamo il nostro piccolo amico Così Prendiamo due piccioni Con una fava Vai Questo non si spaventa Ecco qui Ciocobu Abbiamo sbloccato Anche questo trofeo Diamo un'altra carezzina Al nostro amico Molto molto velocemente In questo modo Si fa E gli diamo un'altra carezza Ormai dovremmo esserci Ma invece no Bene Bene Ora L'abbiamo preso questo Si Per sicurezza Noi lo riprendiamo Che non si sa mai Ora Da qui Conviene che andiamo Prima dall'altro lato Ci sblocchiamo questo Fighissi palloncini Qui Abbiamo Un'altra Lettera Da andare a leggere E arriviamo qui su Possiamo andare a sbloccare Quella pianta Intanto Qui su troviamo Un'altra lettera Eccola qui Andiamo Qui Se lo ricordo male Sì Qui abbiamo un'altra lettera E qui ne abbiamo un'altra Dopodiché Andiamo da questa parte Andiamo a sbloccare Un altro trofeo Qui dentro Questi sono altri collezionabili Che dobbiamo trovare Ripresa del movimento Questo è il primo Ovviamente Dovremmo andare a trovarli Tutti Abbiamo una carezzina Al nostro piccolo patatino Vediamo se ci sblocca Il trofeo Forse ci vuole Ancora un po' Eh sì Se lo ricordo male Era 20 carezze Se non ricordo male Ma potrei ricordare male Sapete ormai che La mia memoria Fa un pochino Schifo Andiamo di qua Io non farei mai questa cosa Che poi hai fatto ora Però va bene Ma no Vai via E non ansia Terribile Qui abbiamo Un'altra lettera Sempre di bianca Bellino Carecina Quanta tenerezza E se non sbaglio Qui È esatto Abbiamo un'altra pietruzza Per andare a mettere La nostra piramide Eccola qui Quindi Torniamo indietro Arriviamo qui E Andiamo a collegare Con il nostro cavo Si gettiamo qui Attenzione Andiamo ad attaccare Alla pianta Che abbiamo Attaccato prima Attaccati Su Su Gioinotto Mamma mia che mosceria Abbia della pazienza Vada su Eh che cos'è Io capisco che devi Da scalare Però Tu devi impegnare Perché qua Se no Eh che cos'è Tu Vediamo il nostro cavetto Qui andiamo a sbloccare Un altro affresco O di qua Ecco io non ci passavo Qua in mezzo Per esempio La mia staccia Non me lo permetterebbe Guarda piccolo culo Che carino E qui scendiamo No no Era questo il tasto Mi sbaglio sempre Confonderò sempre R1 Con L1 Per scendere Eccoci qui Carezzina Il piccolo Patatino Oh Abbiamo sbloccato Il trofeo Delle carezze E qui prendiamo L'affresco Bene Andiamo avanti Ah quanta tosse Eccoci qui E ci attacchiamo Alla pianta E attiviamo Il nostro eco Attacchiamo qui E di nuovo eco Oh Così facciamo Un altro saltino Via E arriviamo qui Fai Ora andiamo a prenderci Un'altra conchiglia Funzione Funzione Di là Ok Andiamo ad aprire Prima questo Che non si sa mai Un po' la moda è sotto E qui Ci andiamo a prendere La conchiglia Un'altra conchiglia Un'altra conchiglia Un'altra conchiglia Un'altra conchiglia Un'altra conchiglia Un'altra conchiglia tiriamo giù il ponte con delicatezza e ci infiliamo qui in questo pertugio andiamo a recuperare un'altra lettera prima di proseguire come va? eccola qui e poi possiamo tornare indietro ora andiamo a prendere un affresco cosa sta? eccolo lì andiamo sopra e ci buttiamo in questa piccola cavernuzola qui lanciamoci e di qua andiamo a prendere un altro affresco eccoci qui mi raccomando sempre blu io avevo perso proprio questo se non ricordo male perché praticamente sparai da questa distanza e non l'ho presi tutto quindi non diventò totalmente azzurro qui fatelo poi menù andate in galleria e controllate ovviamente se ve l'ha sbloccato sempre per sicurezza andiamo di qua e torniamo indietro e andiamo ad attaccare di nuovo a ptd sopra e ci tiriamo un pochino su adesso dobbiamo arrivare su quella piattaforma lì quella lì buttiamo vediamo se ce la facciamo mamma mia come sia atletico e da qui ci agganciamo a questo qui sopra e qui andiamo ad attaccare questi pilastri qui questi legni più che pilastri vabbè si attaccamo qua va una ma vede dettaglio insomma andiamo di qua facciamo tutto il giro poi altro saltino che ci serve trovare un altro ole e qui abbiamo un'altra lettera eccoci qui ci attacchiamo quell'altro tubo che botta che abbiamo dato e ci gettiamo da questa parte attenzione eccoci qui qui andiamo a mettere una pietruzza perfetto e qui poi possiamo continuare ad andare su io ne approfitto per fare un altro saltino sempre perché dobbiamo arrivare a 200 un altro saltino attento Alla prossima. Grazie a tutti.